I pensieri sono un'opera scritta dal filosofo francese Blaise Pascal, nato nel 1623 e molto nel 1662. L'argomento dell'opera, qual è la miseria e la nobiltà dell'uomo? Secondo Voltaire, Pascal fu un paranoico, un sublime misantropo, un genio sofferente diviso tra terra e cielo, ossessionato dalla paura e peccato. Altri invece hanno visto in Pascal come l'uomo che vuole credere ma non riesce e cerca in vano di farlo. I pensieri sono una raccolta di frammenti pubblicati postmi nel 669 dagli amici di Port Royale. Il progetto dell'autore è la difesa del cristianesimo dagli attacchi degli ati e dei libertini, ma anche da coloro che, come cartesi, ricevono Dio alla pura funzione di creatore e ordinatore della realtà. Il cuore sente Dio, non la ragione. Ecco che cos'è la fede, scrive Pascal. Emerge nell'opera una marcata differenza tra le sprite geometrie, quindi tra la ragione che ha come oggetto i fenomeni e il cuore, che ha come oggetto i fenomeni e il cuore e le sprite finesse che con un solo sguardo comprende la contraddittorietà dell'esperienza umana. Di qui la sottile analisi esistenziale sul mistero della vita e sul suo significato. La paradossalità dell'essere umano risiede da un lato nel ricercare la felicità e trovare solo miseria e dall'altro nel determinare la propria grandizza attraverso la coscienza di tale miseria. Il tipico atteggiamento dell'uomo è la fuga di sé con il divertissement, che è desiderio di sperdere se stesso nella moltiplicità delle occasioni come rimedio all'infelicità. Senza divertimento non c'è gioia, dice Pascal, con il divertimento c'è noia. Solo il cristianesimo può penetrare il mistero di esistenza in modo ragionevole, eppure, non essendo una filosofia, riuscire a chiarire attraverso la fede in Dio il valore della vita stessa. E per illuminare la ragionevolezza del cristianesimo, Pascal presenta l'argomento della scommissa, nella quale non è presente alcuna formulazione dell'esistenza di Dio o dell'immortalità dell'anima. Non è proposto alcun collegamento tra fede e ragione, ma viene richiesto all'uomo di valutare la convenienza tra le due opposte possibilità, che Dio esista o non esista. È evidente come sia assolutamente preferibile comportarsi come credenti, rinunciando ai falsi piacere e destinati ad annullarsi con la morte per tenere, nel caso Dio voglia, concedere la fede e la grazia. Pascal è ritenuto un genio, insomma, un autentico genio, e gli invita i libertini di ieri di oggi a riflettere sul paradosso della condizione umana, che è sospesa tra grandezza e miseria. Che tanti pensatori si appellino a Pascal è il segno della sua perenne attualità. Grazie mille. Grazie.